Se c'è stato un parlamentare che è riuscito a parlare con tutti e anche ad avere un po' di problemi con tutti è stato civati ed è anche uno dei pochi che ha affrontato il problema serio di riuscire a creare delle nuove maggioranze su dei temi, non ci sono furti di deputati che vengono fatti da un partito nei confronti degli altri, ogni partito avrà i suoi problemi e se li risolverà da soli. Volevo un tuo parere sulla situazione attuale della sovranità del Parlamento che si trova a essere in difficoltà e sulla possibilità che al Parlamento davvero si parli, che ci riesca davvero a trovare delle maggioranze. Sì, mi dovete scusare perché davvero dobbiamo votare, tra l'altro si pone il voto di fiducia e quindi dovrò rifletterci bene, come al solito tutte le sante volte. Se è così ti teniamo qui bloccato. Infatti, tenetemi bloccato. Tra l'altro sono anche un po' acciacato perché mi è caduto addosso un parlamentare renziano che mi ha mezzo disarticolato la schiena, solo l'ha pupato con dei suoi prodigi e riuscite a rimettermi in careggiato. Allora, io la direi così, noi stiamo vivendo due ribaltoni, quello del risultato elettorale che ha detto esattamente il contrario di quello che sta succedendo, ma come sapete le cose sono andate in un certo modo, e il ribaltone della sovranità del Parlamento rispetto al governo. Noi stiamo traducendo, trasformando questo Parlamento in una sorta di parlamentissimo, di specchio fedele del governissimo, e poi lo spiegherò anche con esempi che riguardano Marconi e gli F35 e tante altre cose, per il quale il nostro dibattito è rovesciato. Cioè noi partiamo sempre da questa strana alleanza di governo per spiegare anche quello che ci tocca dire in Parlamento. Il caso più drammatico è stato quello della legge elettorale. Molti di noi avevano firmato la mozione dei Giacchetti per il ritorno al mattarellum, l'avevamo fatto trasversalmente. Questa era una piccola intesa che è stata sbaragliata dal percorso delle riforme che è stato messo in campo e da un dibattito che è sempre svolto alla rovescia, cioè si parte dalla conclusione e poi si spiega a ritroso che cosa dobbiamo pensare. Ovviamente questo è complicatissimo da sostenere perché noi in campagna elettorale abbiamo preso degli impegni con tutti voi, con chi ci ha votato, chi non ci ha votato, abbiamo detto delle cose molto chiare e quindi è davvero ogni volta molto problematico riuscire a trovare un equilibrio tra queste due cose. Non lo dice solo il dissidente del PD, questa cosa sta succedendo a tutti ed è per questo che prevalgono i toni un po' da caserma, quelli di Beppe Grillo degli ultimi giorni, quelli di molti dei nostri nei giorni, nelle settimane precedenti. Perché evidentemente il pericolo numero uno di questa situazione è proprio il libero dibattito, il confronto sulle questioni, la possibilità anche di scambiarsi di posto, di trovare il senso costituzionale che un parlamentare deve rappresentare, perché io lo ricordo anche al nostro amico Grillo che i parlamentari sono parlamentari di tutti, sono eletti da qualcuno, ma quando sono in Parlamento devono rappresentare tutti i cittadini e devono rappresentare i motivi, i pensieri, le opinioni che riescono a tenere insieme, però l'obiettivo è quello di tenerle insieme, di avere una maggioranza nelle aule parlamentari, non solo di fare una testimonianza to cure. Allora per questo io credo che il lavoro che l'EF ci propone è l'unico motivo di sopravvivenza di molti parlamentari e del dibattito stesso, è l'essenza di quell'istituzione, la possibilità di discutere senza pensare, qui sta l'errore di settimana scorsa di Pierluigi Bersani che è un po' fermo allo streaming, lui non riesce a uscire più da quelle più, no è così, è un auristo, è un'azione, visto che c'è la maturità, è un'azione puntuale nel passato ormai. Cioè non è che c'è il governo del cambiamento, perché il governo del cambiamento Letta lo chiama subito, i parlamentari dicono ma come abbiamo fatto, è un mese che spieghiamo che dobbiamo stare con l'alleanza con Berlusconi, non è che possiamo smontare tutto in una settimana. Il punto non è cambiare maggioranza, è provare a forzare i confini molto stretti di questo dibattito, è provare a farlo sulla base degli impegni elettorali che ci siamo presi e vengo a Marcon e agli F-35. In campagna elettorale tutti, tutti hanno detto che gli F-35 erano, adesso non entro nei tecnicismi, erano troppi, era un investimento sbagliato, quell'aereo non vola, a seconda dei toni. L'ha detto pure Monti che è uno che calcola le parole. Berlusconi è un mio alleato per cui Marcon rispetta un po'. No, voglio dire, Berlusconi l'ha detto di tutti i colori, insomma come al solito. L'abbiamo detto noi, l'hanno detto moltissimo il Movimento 5 Stelle, l'ha detto SEL. Ora io vorrei che la prossima settimana la Camera non votasse sulla base di strani equilibri imposti alla situazione, ma in relazione a quello che abbiamo detto in campagna elettorale. È molto banale, non cade il governo se votiamo una mozione un po' tonica sugli F-35, non c'è motivo per farlo cadere. Adesso lo stesso sulla legge elettorale, io una riflessione la farei, perché noi non possiamo trovarci, guardate il rischio è fortissimo, che mentre stiamo facendo le riforme, tipo del codice di Hammurabi, perché sono tutti padri costituenti, si danno anche delle aree a vederli. Mentre stiamo facendo le riforme cade il governo e noi ci diranno non vorrete mica andare a votare con il Porcello, tutte le volte fanno sto giochino, gli stessi che non fanno la nuova legge elettorale ci imputano il fatto di voler tornare a votare con un sistema che non ci piace. Anche su questo, nelle pieghe del dibattito parlamentare, noi una posizione la dobbiamo trovare. Scelgo due esempi ma potrei farne mille altri, c'è la questione della mobilità sostenibile, dei rifiuti, c'è la questione dell'acqua pubblica che addirittura terrebbe insieme anche quell'istituto che noi consideriamo pochissimo, che è quello referendario, perché poi come sapete sia le leggi di iniziativa popolare che il referendum spesso il nostro Parlamento, open policy potrebbe dire quante volte, come dire, manca l'appuntamento o la discussione vera di quei provvedimenti. In generale, e finisco su questo, noi daremmo anche l'idea di un dibattito politico che è libero, perché noi abbiamo bisogno, io sono ossessionato da questo tema dell'autonomia e della possibilità, non tanto di criticare questo o quello, perché adesso il PD per esempio sta facendo le regole, è appassionantissimo il dibattito. Epifani vuole fare il congresso nel 2015 come l'Expo, Renzi lo vuole aperto, Bersani lo vuole un po' chiuso, Zoggia non si capisce, cioè è un dibattito fantastico, c'è il paese che va in malora e noi ci siamo dati un mese per discutere. Ecco, io metterei tutto questo tra parentesi e cercherei di ragionare sulla possibilità di sprigionarci un po' di più sui temi di fondo, sulla sostanza politica. Ci sarà il congresso di SEL, ci sarà il congresso del PD, probabilmente qualcuno chiederà il congresso anche a Grillo, perché se vanno avanti così poi si menano, invece sarebbe più interessante un dibattito pubblico sulle questioni di fondo. Questi episodi di dibattito interno riusciamo a condividerli in una discussione che sia davvero producente, che porti a qualche risultato, per me questo è l'obiettivo. Se non ci riusciamo perdiamo un'occasione, guardate l'occasione di questo aprile non si ripresenterà più, si presenta ogni cento anni probabilmente, un momento nel quale per vari motivi un esito elettorale dà l'idea che si possa cambiare tutto, molto, in modo significativo. Però questo non ci deve far perdere la speranza di poter essere noi protagonisti di un cambiamento più piccolo, con uno scenario più ridotto, però insomma io di stare lì a votare quello che mi dicono e basta, se poi me lo dice, non so, per esempio Mauro è uno che dice, è cattolicissimo, dice che i cacciavombardieri sono strumenti di pace. No, non è una battuta, l'ha detto così. Allora io non sono, posso non essere d'accordo, io non l'ho votato Mauro, era in scelta civica, no? Però per dire, su quello sono più d'accordo con Marcon, come faccio a trovare un equilibrio? Guardate che non è un fatto personale, è un fatto essenzialmente politico. E che aggiungere? Nient'altro, se non che ecco, rispondo solo alla tua domanda, quindi nessun cambio di maggior, non continuiamo a parlare di questa cosa super politicistica, seguiamo il dibattito anche degli altri, Grillo è arrabbiato perché noi siamo curiosi, pensate un po', non è che si arrabbia con quelli che dicono che sono dei fascisti, quelli del Movimento 5 Stelle, ce ne sono anche nel PD 3 o 4 che continuano a ripetere. Io non penso affatto che siano fascisti, non penso nemmeno che siano una cosa scandalosa, no? A un certo punto Emilio Fede dice, ho visto un sacco di gente entrare con gli zainetti in Parlamento, no? Come se, dico, io ce l'ho zainetto, voglio dire, non mi pare una roba, quindi non mi sembra una cosa rivoluzionaria, però è assurdo essere attaccati noi che siamo curiosi, che vogliamo fare questo lavoro, ma non è un caso che siamo attaccati proprio noi, perché nel gioco dei due fortini che si contrappongono la statura del leader da una parte e dall'altra si rafforza, se invece c'è un dibattito libero, forte sulle questioni, forse qualche posizione di rendita diventa meno forte e qualche elemento di novità può sorgere anche in questa strana situazione. Grazie.